Ciao ragazze, eccomi tornata con un videotag oggi in collaborazione con una ragazza carinissima che si chiama Frenchy Makeup, intorno all'info box troverete il suo canale con il suo video e abbiamo deciso di fare il tag The Perfect Palette quindi io prendo il mio telefono e leggo da qui le domande allora, prima domanda palette con miglior packaging ah, senz'altro secondo me la palette con il miglior packaging è la Naked tant'è che anche nella scelta della palette da portare in vacanza ero tanto tanto indecisa ma alla fine ha vinto lei proprio perché da mettere in valigia è bella resistente perché è in latta è tra tutte quelle che ho l'unica che quando chiude fa lo scatto che quindi insomma ti fa capire che è chiusa bene trovo appunto che sia una palette altamente completa e il packaging comunque è fondamentale se si va in giro soprattutto con valigie che vengono sbattute da una parte all'altra avere la sicurezza di una confezione molto compatta ma sicura comunque è una buona cosa seconda domanda palette con gli ombretti più pigmentati ecco qui io ricito nuovamente la Naked perché vabbè ve la faccio vedere ma penso che ormai la conoscete tutti ha degli ombretti che dire pigmentati e dire poco cioè ci sfiori il dito e sono dei colori setosissimi sfumabilissimi come vedete sono pigmentatissimi ma devo dire che secondo me è a pari merito con la palette che mi sono creata io della Neve Neve Cosmetics perché anche questa comunque ha una pigmentazione altissima anche qui basta che sfiori un colore e cioè risulta davvero molto molto pigmentato come vedete ho preso proprio un colore a caso terza domanda la palette più versatile sono monotona? secondo me la palette più versatile in assoluto è la Naked e anche per questo l'ho portata appunto in vacanza perché ci si possono fare dai trucchi più nude semplici a quelli un po' più elaborati diciamo un po' più strong anche per la sera quindi secondo me è versatilissima insomma poi palette più adatta per viaggiare e appunto la Naked come dicevo prima perché il packaging conta tantissimo per viaggiare secondo me quindi diciamo ho già risposto prima a questa cosa palette che rimpiangi di aver comprato allora premettando che adoro le palette della Mua ma sinceramente rimpiango di aver comprato questa qui tra l'altro l'ho comprata a Cosmoproof senza nemmeno sbocciarla perché ho già comprato tipo un mese prima un'altra palette Mua che adoro e quindi pigmentatissima e quindi era andata diciamo sul sicuro poi come vedete ha questi colori eccole davvero bellissimi e quindi era molto particolare sono andata a colpo sicuro l'ho presa e ci sono rimasta malissimo e l'ho pagata solo 5 euro tra l'altro c'è ancora il prezzo e questa è la Poptastic rimpiango di averla comprata perché su 12 colori che ci sono la maggior parte ci sono veramente poco pigmentati e tra l'altro quelli che a me interessavano di più ad esempio questo viola sembra tipo blu eccolo che è un viola meraviglioso e come vedete non è molto cioè non è proprio per niente pigmentato però ad esempio se vado a prendere non so questo verde qui è molto pigmentato quindi boh dipende molto dai colori non è una palette malvagia però insomma su 12 colori diciamo che metà vanno bene metà no più o meno e quindi un po' rimpiango di averla comprata poi palette che ha i colori con i nomi migliori secondo me questa è in assoluto la neve perché ha colori e si ha colori ha nomi molto carini ad esempio questa acquario e ossigeno baby doll shopping boh sono nomi carini il nero si chiama black sheep quindi boh li trovo davvero carini ed originali come nomi poi palette che utilizzo di meno allora l'utilizzo di meno non per la qualità ma semplicemente perché è tanto ingombrante che sta sotto a tutto ed è questa mega palette della health e la metto appunto sotto a tutto nel cassetto perché come vedete è davvero grande e mi dispiace perché solamente la mattina magari per la fretta e tutto quanto per non stare a tirare fuori tutto non non la uso spesso ma in realtà è comunque un'ottima palette come vedete ha tantissimi colori da tutte le sfumature e sono abbastanza pigmentati sono anche un po' polverosi ma per quanto l'ho pagata insomma è un'ottima palette poi ci sono colori più belli colori meno belli a me piacciono tantissimo i marroni i blu i viola e cioè sono veramente cioè in generale è un'ottima palette però ecco non la utilizzo tanto appunto perché è parecchio ingombrante poi palette più usata più amata è che porteressi su un'isola deserta indovinate tada le ripeto io l'adoro quindi non posso ricitare lei poi palette con il miglior rapporto qualità prezzo qui ho due da citarvene una e l'altra palette ahia l'altra palette mua che vi dicevo che è questa qui che è la pretty pastels che presi proprio sul sito della mua ed è bellissima anche questo come vedete è stra utilizzata non so se si nota e mi piace molto sono anche questi colori un pochino polverosi però insomma per 5 euro 12 colori e sono molto pigmentati oltre che essere davvero dei colori pastello bellissimi che ho utilizzato tantissimo soprattutto in primavera e faccio vedere qualche swatch vedete sono dei colori davvero molto carini magari un giorno vi farò un trucco solamente con questa palette sono tutti colori molto chiari cioè tra tutti questi il colore più scuro e questo marroncino chiaro che vedete qua sopra però cioè in genere è un'ottima palette secondo me e un'altra è quella che ho preso sul giornale ma in realtà comunque non viene più di 3-4 euro ed è questa qui della Sun Club della Essence che è la 02 Long Beach io ho pensato che stando sul giornale non sarà stata niente di che invece anche questa è pigmentatissima meno polverosa anche tipo quella della Mua ed è davvero molto molto carina ha dei colori carinissimi per fare trucchi del giorno e da sera ed è una palette molto molto carina ultima domanda mai senza in una palette ora io non ho ben capito questa domanda se è come penso dico la naked perché penso di aver capito mai senza cioè quali sono le cose fondamentali da avere in una palette e secondo me fondamentale è un illuminante e qui abbiamo foxy un nero con cui ricreare anche righe del liner e qui abbiamo blackout e poi diciamo un colore opaco per la viega qui abbiamo tease e un colore più chiaro per diciamo i trucchi veloci e quello che io adoro in assoluto di più è butico quindi diciamo se la domanda voleva dire questo questa è la mia risposta e niente ragazzi siete tutte quante invitati a fare questo tag se l'avete già fatto avete intenzione di farlo e se vi va lasciatemelo giù come commento perché andrò a vederlo senza altro e niente ragazze ci vediamo al prossimo video ciao ciao